usciamo sconfitti da questa trasferta contro la seconda terza della classe del campionato abbiamo giocato una gran gara usciamo con un punto però la partita è stata una bella partita combattuta da tutte e due le parti con scambi molto buoni e molto lunghi peccato per il primo set che avevamo dominato perché magari partire meglio ci avrebbe dato qualche vantaggio in più però insomma adesso le ragazze stanno giocando molto bene quindi gli faccio i complimenti perché hanno giocato una gran gara